Siamo a Milano, mica per niente. Andiamo indietro, facciamo un tuffo nella storia. Risale al 1955 il suo debutto al Salone di Parigi. Chi non la conosce, è una vettura che ha fatto innamorare tantissime generazioni e ancora oggi è un'icona delle auto storiche. Sto parlando della DS. La DS, quella famosa vettura che aveva anticipato in tempi non sospetti una tecnologia poi copiatissima anche dalle altre case automobilistiche. Beh, vi ho detto troppo, c'è ancora altro da aggiungere, però intanto Nando andiamo perché andiamo direttamente in azienda.